EKR Orchestra per l'ufficio tecnico Introdurre il metodo di lavoro di EKR Orchestra nell'ufficio tecnico significa portare efficienza ed efficacia nella gestione delle informazioni di prodotto fino dalla loro sorgente. L'ufficio tecnico è quell'ente in azienda che produce tutte le informazioni necessarie alla documentazione tecnica e a volte anche all'ufficio marketing. Raccogliere le informazioni alla sorgente nell'ufficio tecnico in modo corretto e non ambiguo permette di produrre con facilità manualistica tecnica e documentazione tecnica in generale con un elevatissimo livello di non ambiguità. Faccio un esempio. Se l'ufficio tecnico definisce correttamente l'insieme delle tipologie di olio che una determinata macchina potrebbe gestire, utilizzare, non c'è il rischio che l'utente finale, quando legge nel manuale, di sostituire l'olio invece che sostituire l'olio pneumatico o l'olio idraulico, rischi di effettuare una operazione sbagliata e quindi possa danneggiare l'apparato o la macchina. L'ufficio tecnico ha quindi l'esigenza di organizzare correttamente informazioni tecniche, numeri, descrizioni, procedure, modalità di utilizzo della macchina, processi, in modo che la documentazione tecnica possa ottenere documenti per l'utente, per il manutentore, il più possibile non ambigui. L'EKR Orchestra è un metodo che dà all'ufficio tecnico la garanzia di operare in modo efficace ed efficiente.